Pronto? Sì, buongiorno, sono Roberto Piovesean dal Società di Piovese, l'avevamo incontrati la settimana scorsa e l'ho passato a farvi visita, si ricorda di me? Sì, sì, ho ricevuto il suo catalogo. Ah, ok. Senta, volevo chiedere una cosa, io vorrei passare da lei mercoledì pomeriggio e incontrarla per discutere un attimo dell'attività a favore vostro, insomma, e parlare un po' di prezzi. No, io non posso, ma in quale dì mi spiace. Bene, allora facciamo giovedì mattinata, va bene? Guardi, io tutta la settimana ho riunioni, vengo con altri fornitori, poi per essere sincero non mi interessa neanche tanto valutare i rimori. Ma lei non ha interesse a risparmiare su questo tipo di prodotti, scusi? Già risparmio abbastanza, quindi penso di aver già scelto il meglio. Ma scusi, di questi tempi risparmio intanzi tu non è abbastanza, io gli propongo qualcosa per poter risparmiare, poi se non sarò capace di far risparmiare, prendo, vengo via, buonanotte a secco, ma cazzo, ma almeno li faccia provare, no, capito? Tutte le volte queste rotture di palle, poi ci lamentiamo perché c'è la crisi e non ci sono soldi, cazzo e mazzo, io li faccio risparmiare e voi mi cacciate via, ma non ho capito, vediamoci giovedì mattinata, mi dedica la mezz'oretta e poi finiamo tutto il discorso, cioè voglio dire, adesso va bene tutto, però non è che dobbiamo ammenarci da più di tanto, che cazzo? Eh, no, ragione, dai. Eh, ho ragione sì. Eh, dai, giovedì mattina a 10 e mezza ci vediamo da lei, d'accordo? Grazie molto gentile, a vederci. Eh, che due palle, oh, ma non mi cazzo, si fa?